Quando una mosca in una stanza si aggira alla ricerca della libertà, c'è un momento preciso in cui la vede, la libertà. La punta, fa un giro largo per prendere la rincorsa, l'affronta a 200 all'ora e c'entra la finestra forte forte. Traumatizzata ma non morta, piano piano si riprende e ricomincia ad aggirarsi alla ricerca della libertà. Poi la rivede, ha libertà e prende un'altra graniata. Non essendo cieca si è giunti alla conclusione che la mosca ha la memoria breve, molto breve. Ma recenti studi hanno confutato anche quest'ultima teoria. La mosca ha una memoria robusta. E quindi cos'è che fa reiterare dopo poco tempo lo stesso errore alla mosca? Forse ha azzardato qualcuno ripetere lo stesso errore a qualcosa di rassicurante. Ci sono ricascato è un pensiero deprimente ma anche confortante. Nella ciclicità dell'errore c'è un immobilismo che ferma il tempo e ci rilassa. In sé per sé l'errore nella vita ci sta. È parte stessa dell'esistenza ma l'errore dovrebbe consentirci di crescere e invece ci connota, ci inchioda, ci definisce. E questo immobilismo lo pretendiamo anche dagli altri. Non cambi mai dovrebbe essere un rimprovero ma si dice sempre con un sorriso bonario che sta a dire ti voglio sempre così, coi tuoi eterni errori. Au, sei cambiato. Invece dovrebbe essere un complimento perché tutti dobbiamo cercare di cambiare in teoria e invece ha in sé una componente di forte delusione. Non sai che cosa ha fatto Mario questa volta? Dice un impiegato ai colleghi. Ora non sappiamo chi è Mario, cosa ha fatto, ma sappiamo che i colleghi si aspettano che abbia commesso lo stesso tipo di errore che commette sempre. Scuoteranno la testa pensando a Mario ma sotto sotto ci sarà tanto affetto perché Mario è fatto così. Come la mosca anche l'amore non è vero che è cieco. L'amore ci vede benissimo ma come la mosca anche l'amore ripete sempre gli stessi errori. Anzi, molte coppie poggiano le proprie fondamenta sugli errori reciproci. Se uno dei due rompe del meccanismo è finita. So che rifarai quella cosa che mi fa tanto soffrire ma ti prego non smetterla. Ed è lo stesso meccanismo che si ritrova anche nel rapporto tra certi personaggi politici e loro elettori. È quasi un patto. Il politico dice l'ennesima minchiata atomica. Tutti pensano questo stavolta si è giocato alla carriera. Invece poi controlli sondaggi. È cresciuto. Ai suoi quella minchiata atomica ha fatto molto ridere. Gli è piaciuto un sacco. È fatto così. È fatto così. E secondo loro non deve cambiare. E questa aspettativa di comportamento condanna intere categorie professionali. Ti aspetti che all'impiegato delle poste gli eroda il culo. Se ne trovi uno di buon umore non te fidi. Ti stranisci. Forse cambi sportello. Perché l'impiegato delle poste lo pretendiamo musone. L'attore lo vogliamo sfaccendato di giorno e di notte leone. Oh fai l'attore a quest'ora se è già sveglio. Gli attori che si ostinano a provare a vivere una vita normale ci sembrano destinati al totale fallimento. Gli avvocati devono essere in trallazzini. Ma che tipo è? E che ti devo dire? È un avvocato. Insomma hai capito? Eppure in Italia ci sono 245 mila avvocati. Come fai ad aver capito che tipo è? E invece sotto sotto un po'. Hai capito? Ma liquidiamo addirittura interi paesi attraverso i loro errori. Negli Stati Uniti c'è un numero demenziale di armi in giro? Vabbò. Sono americani. Lo sai come sono fatti? In Russia fanno fuori dissidenti così. A luce del sole. Ho capito? Ma sono russi. Che te lo dico a fare? Noi italiani? Vabbò. Non funziona niente come sempre. È una condanna perpetua. Irrimediabile. Un ulteriore studio del comportamento della mosca suggerisce che il ripetersi dell'errore stia proprio in quel vabbò che le nasce dentro. Dopo aver dato la dolorosissima craniata dentro la mosca c'è una voce che minimizza l'errore e dice vabbò e dai è andata così. E questo errore diventa meno grave e consente di rimuoverlo gradualmente per prepararsi all'infrociata successiva. Quindi per bloccare questo meccanismo perverso la mosca deve combattere il vabbò. Tra l'altro è la prima cosa che insegnano nei centri di recupero per tossicodipendenti. Combattere il vabbò oggi è andata così. Vabbò un cazzo dicono in quei centri alla mosca. Se hai un problema con la tua compagna lo affronti mosca. Non guardi dall'altra parte. Se quel politico ha sbagliato lo sfondi mosca. Non lasci correre. Non lo perdoni perché hai fatto così. Ribellati mosca. Reagisci. So che c'è qualcosa che ti sta spingendo a restare quella che sei. Ma possiamo cambiare mosca. Possiamo cambiare tutti insieme. Voi mosche e anche tutti noi. Ci stai mosca? La mosca ci pensa un attimo e poi dice ok ci sto. Ma muo fai in favore. Apri sta finestra.